Inaugurata la 274esima edizione della Fiera Pessima di Manduria, si chiama ancora Fiera anche se ormai in realtà negli anni è andata sempre più ridimensionandosi. Quest'anno 6.000 metri quadri di esposizione, la metà dello scorso anno e molto meno degli anni ancora precedenti. Rispettata invece la tradizione da cui deriva l'appellativo di pessima perché si è sempre svolta col maltempo e puntuale c'è pioggia anche quest'anno. A tagliare il nastro dopo la benedizione del Vescovo di Ori è stato il sindaco di Manduria, Roberto Massatra, ascoltiamo. Abbiamo avuto pochissimo tempo a disposizione, devo dire che l'azienda ha fatto un miracolo ad allestire in così poco tempo la fiera stessa, speriamo che vada tutto bene e che una volta tanto il tempo non sia così cattivo e che si smentisca almeno la nomea di questa fiera pessima. Tutto è stato fatto in una settimana, più di tanto non si poteva ottenere ma comunque come sempre hanno aderito aziende di abbigliamento, arredamento, attrezzature agricole e prodotti tipici agroalimentari benché molti stand siano rimasti vuoti. Anche per il 2014 nel corso dei cinque giorni di apertura sono previsti una serie di incontri e dibattiti con argomenti di questioni economico-finanziarie del territorio.